Musica Ben trovati telespettatori di TV6 e l'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 25 gennaio. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che su gran parte delle regioni centro-settentrionali avremo condizioni di tempo stabile e spesso soleggiato, mentre sulle regioni meridionali avremo condizioni di instabilità diffusa. Per quanto riguarda la ventilazione questa proverrà dai quadranti settentrionali e i mari risulteranno generalmente mossi o molto mossi, mentre per quanto riguarda l'aspetto termico le temperature risulteranno in generale calo su tutto il territorio. Per quanto riguarda l'Abruzzo al mattino avremo condizioni di debole instabilità che al mattino continueranno ad interessare in particolar modo il basso pescarese e le coste del Chietino. Tuttavia nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche vedranno cieli nuvolosi o molto nuvolosi lungo la costa e coperti nelle zone interne. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento.